Per recensire dischi da mio negozio ho creato una sorta di set cinematografico con l'aiuto di una tradista svizzera che mi sta dicendo, artigianale, però ogni giorno vai in onda su Instagram, Facebook e YouTube un programmino mio dove ogni giorno presento un disco, un disco che mi piace, di onore, oppure vari generi musicali di tanti dischi.